Bluie vuole fare il bagno bambine che fate di sotto la pioggia? mamma è divertente giocare quando piove forza rientrate subito altrimenti vi prenderete un bel raffreddore vabbè bingo andiamo chi arriva l'ultimo perde ehi aspetta non è giusto corri Bluie ehi Bluie sono arrivata oh no Pinky si è sporcata tutta di fango dai vieni che ti faccio un bagnetto bene ora sei bello pulito e sei super profumato oh anche io voglio essere profumata come Pinky ora vado a chiedere alla mamma se posso fare un bagnetto pure io caspita non sapevo che si fossero lasciati mamma si Bluie si Bluie mi prepari la vasca che voglio fare un bagnetto si va bene Bluie ma prima devo finire di leggere questo articolo ok finchè mi aspetti cominci a preparare a cappatoio e alcuni giochi per la vasca no? si giusto vado subito allora pensiamo pensiamo cosa potrebbe servire ah ci sono ehi Kitty sei pronta per un bagnetto? hai già la maschera da sub e poi ah giusto il mio salvagente cucchiello paletta alcuni giochili figlio dinosauro una pallina bene rivista finita andiamo a preparare la vasca per Bluie Bluie ehi mamma hai visto? ho tutto pronto per il bagnetto ma Bluie hai riempito la vasca da bagno di giochi non ci sta nemmeno l'acqua giusto ho un'idea lui che fai? beh mamma ho deciso che farò un bagno di giocattoli oh Bluie Grazie a tutti.